La Bastiglia era diventata quasi il simbolo dell'oppressione del malgoverno dei Borgoni. Bisognava assolutamente evitare che i cannoni sparassero sulla città e tutti i parigini unirono i loro sforzi per impedire che ciò avvenesse. La pioggia aveva smesso di cadere e tra poco sarebbe sorto il sole che avrebbe illuminato il 14 luglio. Forse la giornata più importante della storia francese. La volontà del popolo è una sola, attaccare la Bastiglia. Comandante Oster, non ti preoccupare, ci siamo anche noi e i nostri cannoni spareranno. Avanti, avanti sul tappo della guanda, caricate il cannone e spuntate sulla parte alta della Fortezza. Ma lì! Da questo momento siete ufficialmente di rivelli. Presto soldati del re, sparate al capitano. La Bastiglia non cadrà mai. Sparate sul comandante Oscar! Focco! Fuoco! 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 Comandante! Esiste! Comandante! Comandante! Mettimi giù, Alè! Ti prego! Sono stanca! Fammi riposare! Sono tanto stanca! Ti prego! Non sta ritornando! Aiutami! Andiamo a portarla di noi! Certo! Rosalina! Togli l'istante che è sul viso! Certo! Certo! Perché non sento più rumore nei canoni! Continuate a sparare! Alè! Dai tu gli ordini! Soldati! Presto! Fuoco! Fuoco! Senti Oscar! I nostri canoni stanno sparando! Senti? Sì! Mi sento! Andrei! Arrivo! Arrivo! Anno! Anno! Maschè! Maschè! No! Maschè! Maschè! No! Sì, 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 sì Sì, 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 sì